tu hai qualche zombie? no ok quindi siamo praticamente a un 16 aspetta un secondo vado a prendermi una gabba o il gamba speriamo che mi sia quella di quando muoio mi ridanno le armi e via almeno e io figa non me l'ho sommessa no non mi è uscita quella quindi ragazzi se muoio eh non so più a cosa cazzo fare cioè se muoio è finita la challenge no vabbè non puoi rifare altre due cose no perché se trova metti la rei gun o le e-maker sarebbe più facile mentre la prima era più difficile quindi ragazzi se moriamo se moriamo dobbiamo aprire i pacchetti quindi non troviamo le stesse armi no ci metteremo troppo no no ragazzi ci metteremo troppo e dopo magari dire diventerebbe anche un po' troppo brutto ce la fai? ma se uno muore che cazzo stai facendo? c'è sempre l'altro boh io sto correndo vieni su vieni devo sistemarmi la cuffia che mi sta comando poi vedo se c'è qualche altro potenziamento per il locus eh levati da qua però perché non va in luz che avere due potenziamenti uguali raga non va praticamente bene cioè io prima non avevo ok i fuochi d'artificio mi ha dato dove era il zombie? è qua da me ovviamente bam si aspetta ok è qua è qua vai lo ammazzo anche perché comunque raga avere due cose dello stesso tipo raga non va bene praticamente poi è una figata pacca a panciare anche perché ti cambia le armi c'è ogni pacca a panciare che fai c'è ogni potenziamento che fai come vedete cambia l'arma in bella vista ah io ho ancora pop shock il marqua ho ancora pop shock è qua in bella dov'è? ce ne sono due quindi vieni sotto a darmi una mano sì grazie se vedete che si interrompe e ritorniamo dopo il marqua perché non voglio ricominciare di tra come? eh no ma sono non salvarmi vabbè mi sa che la salenza è già finita vabbè ho quasi grittore munizioni del weevil ho coltellato tutti e due li ho coltellati tutti e due li ho ammazzati tutti e due raga non so ho coltellato uno sono morti tutti e due dopo ho detto anche la seconda coltellata per essere sicuro perché io praticamente ce l'avevo davanti fortunatamente avevo pop shock però che se dovete tipo fare una sopravvivenza mettetemi pop shock dico su shadow su fievel perché più vagine che morite c'è un manowur io ho trovato un manowur dentro un uovo anche l'ammazzati eh cazzo aiuto figa stai morendo sei morto cazzo ho morto anch'io eh vabbè raga mi ero bloccato avevo un zombie morto davanti eh vabbè prendi la bestia veniva cioè raga io non capisco come come gli zombie anche io sono utile qualcosa vedi ma è un buon nucleare vai perché sei stupido passa around e io non ho il jug scusa stavo morendo troppo c'era che non so se avete visto io sono morto perché avevo davanti praticamente uno zombie morto che avevo accoltellato con pop shock è morto e sono morto anch'io perché non mi potevo muovere cazzo ci va tienila niente tienili queste merdacce guarda che le uccidevo io che poi il locus è una merda anche perché ti dà il potenziamento ogni due anni ti potevi sparare 150 colpi per avere un potenziamento io devo avere la roba poteva costruire c'è sì appunto cercheremo di costruirla in un'altra sopravvivenza faremo tipo un road twist e rag potremmo fare no che cazzo dici mi sa che finirà qua anche perché io ho un'arma che ricarica entro due anni raga mi sto andando a chiudere sono intelligente io oh ma figa ma non mi fai oh non mi fai animare e sono morti quelle puttane ma raga come fanno se tu prendi un kabum di minchia no c'è cosa c'è raga è impossibile che tu prendi un kabum e quel cazzo di kabum non funziona dato che muoiono dopo tredici anni e mezzo ok dovrebbero correggere un paio di cose oppure che c'è uno zombie ce l'hai davanti cioè è impossibile superarlo dato che lui occupa un muro intero oh mio dio no no tu devi morire grazie ciao mi sono ancora potenziata dalla seconda sono morto no vabbè è stato diventato un po' infattibile con queste armi siamo morti siamo morti raga siamo morti anche perché cazzo uno se vedete il mio dito non si vedrà però infatti non si vede ci è messi stadi c'è 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 rosso viola e nero e comunque siamo riusciti a sopravvivere 10 17 round scusate con un locus e un brm quindi io spero che questo video vi sia piaciuto questa questa serie praticamente questa serie vi sia piaciuta commentate condividete iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto e se volete anche altre sfide fatemelo sapere lasciate comunque mi piace guardate ho fatto cazzo cioè io dal livello 2 al livello 6 del brm dal livello 2 al livello 5 del locus ok ok raga io io vi saluto raga io spero che questo video questa serie comunque vi sia piaciuta lasciate davvero tanti mi piace e in un prossimo video o in una prossima serie comunque ciao ragazzi